C'è anche stato un uomo che in quattro anni aveva cambiato tre partner e le aveva sottoposte tutte e tre a violenza sessuale e psicologica, tre casi trattati dallo sportello Daphne contro la violenza di genere a Rimini. Le vittime si sono tutte e tre rivolte ai servizi ed è stato l'operatore a capire che l'autore di violenza era lo stesso. A raccontare l'episodio è stata la responsabile del servizio, la dottoressa Mary Russo, direttore del programma aziendale di psicologia facendo il punto sui dati del servizio. Il prossimo 24 maggio a Rimini tra l'altro si terrà un convegno dal titolo Liberi dalla violenza, un progetto per uomini che vogliono cambiare. Nel 2012 sono state 255 le donne che hanno avuto accesso ai nodi della rete Daphne, 181 sono state prese in carico, 58 i casi di violenza fisica, 16 i casi di violenza sessuale arrivati all'ospedale di Rimini con un aumento sull'anno di 9 casi. Anche lo sportello Daphne della rete rileva un incremento di violenze stupri, 8 nel 2012 e 3 nel 2011. Le donne che chiedono aiuto sono in prevalenza ancora italiane, 54,5%, ma crescono le straniere irregolari rispetto all'anno precedente, 30% contro il 5 del 2011. Si mantiene stabile ma alto il dato della violenza verso le donne in gravidanza. Guardando i maltrattati la prevalenza della violenza sta nelle relazioni intime, l'88,4% dei casi, in particolare nel 35,3% il maltrattante è marito, nel 25,4% il partner, nel 17% l'ex partner, nel 9,9% l'ex coniuge. In media si tratta di un partner italiano con un'occupazione lavorativa. L'azienda Asla di Rimini, nell'ambito del progetto Daphne, attivo dal 2005 con la regione Emilia-Romagna, ha attivato il progetto Liberi dalla violenza, rivolto appunto agli uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità.